Perquisizioni questa mattina nella sede del parco Adda Nord, ente del quale fanno parte anche alcuni comuni lecchesi. L'inchiesta, condotta dalla sezione anticorruzione della squadra mobile della Questura di Milano, è partita a seguito di un'ispezione dell'agenzia regionale anticorruzione nella sede di Trezzo d'Adda, durante la quale sarebbero state riscontrate lacune nella documentazione relativa alla gestione del parco. Tre gli indagati, tutti i funzionari dell'ente, due dei quali non più in servizio. Due reati ipotizzati, turbativa d'asta e truffa. L'accusa di turbativa riguarda l'assunzione di una dipendente, essa stessa fra gli indagati, che prima lavorava come funzionaria in un comune dell'Interland e poi è passata al settore urbanistico del parco. L'ipotesi di truffa riguarderebbe invece un finanziamento ottenuto di alcune decine migliaia di euro per creare un call center poi mai realizzato. Oltre a ciò, secondo quanto trapelato, i magistrati starebbero cercando di capire perché una multa da un milione e mezzo di euro combinata a una società privata che gestisce una cava nel parco si è stata ridotta a poche decine di migliaia di euro. L'iniziativa della magistratura sulla gestione del parco Adda Nord segue a un'ispezione promossa e gestita dalla Giunta regionale, spiega la Regione in una nota, i cui risultati sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria fin dal mese di giugno di quest'anno. La Regione Lombardia nel sottolineare la piena collaborazione con la magistratura si augura che l'indagine in corso da parte della Procura della Repubblica di Milano faccia rapidamente chiarezza sulla gestione del parco Adda Nord. Grazie a tutti.